Domenico tu insieme ai tuoi compagni di gruppo, qui siamo all'Officina dei Nuovi Lavori e fai parte del gruppo del Fab Lab, avete rappresentato quello che vorreste che fosse il Fab Lab in questa settimana di corso, ce lo illustri? Buonasera, benvenuti al nostro processo di rappresentazione del Fab Lab, allora questo rappresenta noi prima di venire qui al Fab Lab, quindi con gli ostacoli, questi sono dei paletti che ci siamo posti prima di entrare qui, questa rappresenta, rappresentava, la libertà di pensiero e delle idee e questa ci accompagna tutti, ci accompagna attraverso tutto questo percorso, questi siamo noi all'inizio del Fab Lab, siamo tutti insieme, chiusi in una gabbia senza sapere cosa ci aspetta, poi ci siamo trovati qui quando abbiamo iniziato le nostre attività al Fab Lab, questo rappresenta il Fab Lab, con la stampante 3D, con la fessatrice e la macchina a taglio laser, questo è un meccanismo che piaceva tanto a noi, e questi siete voi che ci avete accompagnato in tutto lo sviluppo, poi qui questo rappresenta un ponte attraverso il cui passiamo anche grazie al lavoro di gruppo e alla realizzazione delle nostre idee, delle nostre idee che ci aiutano a superare gli ostacoli che avevamo, i muri e gli ostacoli che avevamo grazie al... sempre grazie al... alla realizzazione di pensiero, poi arriviamo all'arrascio finale, che è il raggiungimento dei nostri obiettivi qui al Fab Lab, che ci accompagnano poi verso la realizzazione di soldi. Bene, mi sono tutti i nostri, grazie a tutti.